ho già fatto questo video 3-4 volte in posti diversi con device diversi e alla fine ho scelto fortunosamente questo adesso non so se è meglio guardare qui o è meglio guardare qui per guardare in camera però io mi diverto di più guardare me stesso comunque inizio questa serie di video su youtube delle cose di cui parlo dovunque in radio, su IMB, su radio Interland su speaker, nei post, nel mio scoop insomma in un sacco di cose youtube non l'ho mai preso troppo in considerazione ma devo cominciare quindi non sapevo se aprire un canale nuovo oppure no per adesso non apro un canale nuovo comincio a fare queste cose anche a metterle in una playlist in questo mio canale questo lo dico agli amanti di youtube e ai pochi più ai poco più di 100 iscritti che ho sul mio canale che sono comunque poco più di 100 iscritti non è zero quindi vuol dire non parlare a nessuno proprio però so che questo video lo vedranno i miei amici di facebook e quindi i miei amici di facebook che vogliono seguirmi su youtube dovete venire sul mio canale che lo trovate da questo video e iscrivervi vi consiglio di imparare a usare youtube nel senso di usarlo proprio come una televisione on demand perché quello è e saluto anche gli amici di twitter ma anche se quelli di twitter guardano meno i video credo di quelli di facebook è vero? non è vero? mi sono tolto la luce in faccia perché mi si è spento il monitor del pc che mi fa da lampada e vabbè comunque un saluto a tutti inizierò da oggi a fare questi video spesso spero quotidianamente se riesco perché il tempo ce l'ho nel senso che sono davanti al computer molto spesso quindi 5 minuti per fare un video che saranno sempre molto brevi li posso avere li farò con il telefono come sto facendo adesso niente di più e basta per ora voglio partire così perché ne voglio fare tanti allora la cosa che volevo dirvi oggi velocissima ne dirò pochissime una due forse perché l'introduzione è stata lunga quindi da oggi seguitemi iscrivetevi commentate qua sotto lasciatemi commenti come si fa su youtube si commenta qua sotto mettete mi piace sempre qui o qui non so dove mi prenderà mi piace perché quello serve collegate youtube ai vostri account così quando fate mi piace appare già su facebook e twitter non dovete metterlo in giro e niente la prima cosa che vi volevo dire è questa applicazione che sto dicendo un po' dovunque che ancora non mi convince ma visto che ogni tanto prendo le novità applicazione che si chiama wine wine con scritto vine vine questa è roba per mandare dei video twitteriani cioè di pochi secondi 6 secondi è carina perché il video si monta cioè si schiaccia il video allora innanzitutto va solo la webcam che inquadra di fronte a voi non quella che inquadra a voi inquadrate qualcosa schiacciate il monitor display e per il tempo che schiacciate registrerà quindi potete fare track 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 truck track track e il video sarà composto dalle immagini che avete fatto anche dall'audio anche se di default ho visto che su twitter il video parte in mute ma sull'applicazione no ancora mi si è spenta la luce quindi dicono che sarà il trend dei prossimi mesi wine wine vine wine vabbè quindi insomma credo che uno scaricamento gratuito uno scaricamento veloce è un posto da mandare come ho fatto io insomma si può fare poi bisogna cercarsi gli amici all'interno questa è una rottura quando non trovi gli stessi amici di facebook o di twitter o di google plus che non trovi da nessuno insomma quando non hai già degli amici dentro diventa complicata sono a un mese dalla mia sigaretta elettronica non fregarà niente a nessuno ma ho praticamente smesso di fumare almeno quel tipo di sigaretta senza ho smesso di fumare senza pensare di aver smesso perché con questa mi sento pure più libero posso fumare anche il mio studietto non fa puzza sono un sacco di cose e ripeto anche qui visto che l'ho detto ormai in tutti i social se non avete ancora fatto l'account di Mega Mega è il nuovo Mega Video fate l'account non per scaricare i film illegalmente ma perché quando fate l'account quello che vi offre è 50 giga di spazio online una nuvola un cloud una dropbox di 50 giga il più grosso regalo gratuito di questo tipo dai tempi di Box.net che è un'altra specie di dropbox che regalava 50 giga serie utente Apple quando lanciarono iCloud quindi fatevi l'account su Mega scrivete Mega su Google se non sapete cos'è si apre il nuovo portale di King.com va bene? è velocissimo basta 5 minuti 25 è già troppo quindi da oggi preparatevi a un video se non quotidiano quasi sul mio canale qui salutatemi anche sotto Facebook o sotto Twitter o sotto Google Plus o sotto dove vi pare però anche su iscrivetevi al canale eccetera 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 pace buio